Ebbene si ragazzi, parto così, vi mostro subito adesso quella che è la mappa del tesoro e adesso vi mostrerò esattamente dove si trova per chi non l'avesse ancora capito, questa mappa qua raffigura questo che vi sto mostrando adesso che è tra l'altro una faccia strana perché non so bene cosa si riesca forse come un robot, non lo so sinceramente comunque quello è il posto in cui si dovrebbe trovare il tesoro di questa settimana qua e dico si dovrebbe perché io sto registrando prima che la sfida esca, quindi non sono sicuro 95% è qua, nel caso in cui non fosse qua cercate perché potrebbe essere lì come vi mostro adesso oppure qua dentro, oppure c'è ancora un altro posto che vi mostro adesso che è qua, oppure ancora se non lo trovate qua, spaccate pure qua sotto che lo trovate per i cazzuoli, io direi che posso lasciarvi così lasciate un bel like ozzo, cerchiamo di arrivare a 70 likes e nulla raga, sappiate che tutte le sfide io ogni settimana le porto quindi se volete rimanere aggiornati cercate di iscrivervi e lo è l'agricchiamo di iscrivervi e lo è l'agricchiamo di iscrivervi video